Un fermo no alla possibile soppressione dell'ufficio di polizia di frontiera di Taranto arriva dai consiglieri regionali del Partito Democratico Maurizio Bruno e Vincenzo Di Gregorio. La perdita di un presidio di sicurezza e legalità in una realtà complessa come quella ionica è un segnale che potrebbe avere ricadute pericolose. Si tratta di una scelta incomprensibile, aggiungono, in un momento di nuovo sviluppo dello scalo portuale. Abbiamo ascoltato Vincenzo Di Gregorio. Siamo rimasti sbalorditi dal recupero di questa vecchia razionalizzazione dello scorso anno che sta avvenendo in questi giorni. Bene hanno fatto sia il SULP attraverso il dottor Di Gregorio che il presidente della provincia a riprendere questo argomento. Insieme al collega Maurizio Bruno abbiamo fatto un intervento presso la regione perché anche la regione deve fare la sua parte affinché questa cosa venga fermata più presto. Taranto ha bisogno di essere arricchita, non ha bisogno di essere svuotata e quello è un posto importantissimo visto anche lo sviluppo che sta avendo il porto anche dal punto di vista del croceristico. Si dà un segnale esattamente al contrario di quello che si dovrebbe dare. Per cui noi rilanciamo la cosa, siamo contro la chiusura, anzi chiediamo che sia rafforzata con mezzi e uomini.